Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presono Studio One ed Acustica Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proadiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo aggiornamento di Studio One 6.1. Vediamo adesso insieme tutte le novità che si trovano sotto il cofano di questa versione. Vi ricordo che quando andiamo ad installare un aggiornamento di Studio One è importante ricordarci di non sostituire subito la nostra applicazione, questo perché potrebbe in alcuni casi molto rari avere delle incompatibilità o creare magari dei problemi. Ma questo accade per ogni tipo di aggiornamento non soltanto per le Do. Il mio consiglio è quello sempre di copiare l'applicazione appena scaricata su una cartella differente, lanciarla e verificare che tutto funzioni correttamente prima di procedere ad una cancellazione della vecchia versione di Studio One. Questo ovviamente è un consiglio che mi sento di darvi anche per qualunque altro tipo di aggiornamento, soprattutto dei plugin. Questo ci permette ovviamente anche di tenere più versioni di Studio One sullo stesso computer senza che entrino in conflitto l'una con l'altra. A me capita spesso infatti di tenere anche le versioni vecchie all'interno del computer come ad esempio Studio One 5 ed anche Studio One 4, per chi ovviamente lo aveva già acquistato all'epoca. Questo ci permette ovviamente anche di riaprire delle vecchie song con i vecchi plugin, quindi non avere troppi problemi di retrocompatibilità con le song già fatte. Per chi come me poi ovviamente si trova su M1, quindi nuovi sistemi di Apple. Chiaramente tantissimi plugin vecchi non verranno più caricati, ma per questo ho tenuto da parte un mio MacBook più vecchio per poter poi riaprire le vecchie song con gli stessi identici plugin nel caso raro in cui io debba comunque recuperare delle tracce con quel tipo di suono. L'aggiornamento di Studio One può essere fatto in due modi, o scaricando l'applicazione nuova direttamente dal nostro account di Presonus o appunto schiacciando sul pulsante Update che appare ogni tanto quindi all'arrivo di un nuovo aggiornamento sulla finestra principale di Studio One. Andiamo insieme ora a vedere tutte le novità di Studio One 6.1. Una delle feature più richieste da tutti gli utenti è stata una nuovissima palette di colori e che ritroviamo all'interno di Studio One 6.1. Infatti cliccando ad esempio sui colori da voler assegnare alle nostre tracce possiamo scegliere una nuovissima palette e ampliare la aggiungendo ad esempio celle e poi ovviamente colorandole modificandole attraverso il tipo di colori che noi vogliamo introdurre nella nostra palette custom. In alternativa possiamo scegliere di inserirlo anche numericamente sotto se avessimo appunto dei riferimenti RGB ben dettagliati e nel caso volessimo caricare dei preset possiamo arrivare ad avere paletti di colori molto espanse fino appunto a 256 colori e più di default di Studio One che appunto copre la maggior parte delle mie esigenze. Nel caso contrario appunto avendo creato una palette custom possiamo salvare il preset con store preset. In questo caso poi ovviamente possiamo anche condividere e caricare preset di palette anche dal browser in questo caso dal cloud e quindi da presonus exchange dove appunto sono presente palette di colori derivate ad esempio da altre Do, quella di Cubase, quella di Bitwig, di Logic ed eccetera eccetera. Una volta installate possiamo poi ovviamente ritrovarle all'interno della nostra palette di colori. Sotto preset infatti troviamo ora Logic 96 V2 quindi abbiamo a disposizione come vediamo in maniera molto semplice anche le palette di colori a cui eravamo magari abituati con la Do precedente. La seconda novità è il Time Display all'interno del video. Per accedere a questa funzione basta cliccare qui in basso dove è presente la chiave inglese e scegliere Show Time Display o Mostra Time Display. In questo modo possiamo avere il Time Display direttamente nella finestra di video ed è molto comoda soprattutto quando stiamo montando la nostra colonna sonora sul film. Oltre queste funzioni sono state aggiunte anche le opzioni per poter stringere o allargare il video in maniera molto rapida come abbiamo già visto anche per le tracce audio normal, medium, small, teeny eccetera eccetera. Questo per accedere rapidamente anche alla costruzione appunto delle finestre di video. Insieme a Studio One 6.1 arriva anche l'aggiornamento della versione per iPad appunto di Studio One Controller. In questo modo possiamo già velocemente come vediamo controllare i fader quindi tutto ciò che controlla appunto l'applicazione di Studio One più delle feature. In questo caso sono state aggiunte nei canali la possibilità di entrare appunto nella finestra di panning e cambiarlo in Dual o Binaural direttamente dall'iPad. Quindi un controllo più completo rispetto alla versione precedente. I controlli appunto della Do e questo ci aiuta tantissimo quando ci troviamo magari in fase di recording e abbiamo bisogno di lavorare direttamente sull'applicativo. oltre a tutte le altre funzioni che abbiamo già visto nel video sull'iPad quindi il controllo di Studio One attraverso l'iPad. L'altra funzione che è stata aggiunta è quella del Lyrics e in questo caso possiamo leggere il testo direttamente dall'iPad mentre stiamo cantando ed è una funzione fantastica che appunto viene relegata alla Lyrics Track che noi abbiamo qui e che abbiamo poi all'interno di Studio One. Facciamo un test in questo modo abbiamo come vediamo immediatamente il testo che scorre con l'iPad e quindi è immediato proprio possiamo scrivere il testo e trovarlo direttamente sull'iPad e quindi lavorare in maniera molto più semplice anche durante le fasi di recording della voce. Sicuramente i cantanti della vostra band o voi stessi che state registrando le voci sarete estremamente felici di questa nuova feature. Un altro improvement è stato fatto all'interno della Lyrics Track. Infatti qui troviamo ora la possibilità di vedere il testo contornato in base a dove ci spostiamo all'interno della song. In questo modo abbiamo una sorta di bouncing ball quindi un sistema che ci permette di vedere dove ci troviamo sul testo. Utilissimo ovviamente per i cantanti è utilissimo fatto di poterlo avere in questo modo anche sull'iPad quando appunto leggiamo il testo. Questo fa sì che possiamo poi scegliere di selezionare anche le porzioni di testo e muoverci all'interno della song direttamente cliccando sulle parti di testo che stiamo visualizzando. Sempre all'interno della Lyrics Display possiamo ovviamente fare dei cambiamenti e delle modifiche ma la cosa interessante è quella di poterlo utilizzare anche all'interno dello Scratch Pad. Per esempio se le selezioniamo una parte del testo la copiamo direttamente all'interno dello Scratch Pad. In questo modo possiamo avere una seconda Lyrics Track e quindi ogni volta che ci muoviamo sulla Lyrics Track come vediamo possiamo avere o questa versione o quella che noi troviamo all'interno della song. Quindi avere anche dei testi alternativi nella stessa song ed è comodissimo per poter mettere a punti, cambiare il testo, fare versioni differenti. Lo Scratch Pad come vi dicevo e come vi ho mostrato molte volte è uno strumento potentissimo per poter cambiare le song e creare anche dei remix molto molto velocemente sempre all'interno di Studio One e sempre all'interno ovviamente della stessa song. Un'altra novità grandissima sono i Sync Point. Questa sarà una feature amatissima da chi fa tantissimo editing come me ad esempio è che ci permette appunto di creare dei punti di sync anche nei file o negli eventi in questo caso che non sono sincronizzati con la timeline. Questo può succedere perché magari carichiamo all'interno un sample particolare in questo caso è un drop come sentiamo e quindi potrebbe non andare esattamente sul tempo preciso della misura e quindi abbiamo bisogno di creare un punto di intercettazione del sync all'interno del nostro evento. In questo caso è semplicissimo clicchiamo sull'evento con il tasto destro del mouse e procediamo con l'opzione Sync Point. In questo modo verrà acceso questo piccolo triangolino in basso a sinistra dove troviamo appunto il nostro file e sincronizziamo il nostro Sync Point con l'esatto attacco proprio del file. Eccolo qui. Ingrandiamo fino all'estremo. In questo modo ogni volta che adesso noi andremo a spostare il nostro file verrà automaticamente sincronizzato con la nostra time base di riferimento appunto quella delle misure in questo caso. Infatti cliccando come vediamo si sposta. facilmente sulla time base e il nostro Sync Point sarà perfetto con la nostra time base come vediamo. Questo ci evita tantissime ore di editing anche dei piccoli samples che noi poi andiamo ad attaccare all'interno degli arrangiamenti. Altra grande novità è il notification center. In questo caso sotto la nostra faccina qui in alto possiamo avere la notifica dei vari supporti e quindi dei vari anche workspace dove ci è stato chiesto di partecipare e quindi di prendere parte poi all'utilizzo di Presonosphere con altri membri. Questo ci permette di condividere song intere, files, poter discutere anche via chat direttamente da Studio One senza dover andare nel browser eccetera eccetera. Questo ad esempio è un folder a cui sono stato invitato a partecipare. Faccio join e ovviamente entro all'interno di questo folder e posso insieme agli sviluppatori lavorare su alcune cose che faranno poi parte di Studio One. Ovviamente questa è una feature di Presonosphere ma è utilizzabile anche da chi non è iscritto a Presonosphere. Basta che appunto uno dei membri lo sia io posso creare un workspace e invitare chiunque altro a partecipare nel mio workspace appunto discutere dei file, ascoltarli, modificarli eccetera eccetera. È indubbiamente un ambiente di lavoro estremamente confortevole ed utile che ho utilizzato soprattutto in questi anni appunto tra la pandemia e appunto la possibilità di non viaggiare facilmente e che mi ha permesso di continuare a collaborare con Studio One in maniera assolutamente semplice e veloce. Tutto questo è ovviamente integrato all'interno di Studio One. Infatti se noi andiamo sotto Song e facciamo ad esempio Export Stamps possiamo da questa finestra scegliere nel Frame Publishing Upload to Presonosphere. In questo caso poi ci verrà chiesto in quale workspace vogliamo caricare i nostri Stamps. Quindi è tutto integrato, tutto molto molto semplice da utilizzare. Le ultime due grandi novità di Studio One 6.1 sono riferite alla Project Page, quindi alla sezione di Mastering di Studio One. In questo caso possiamo ora creare dei template e quindi poi richiamarli dalla Song Start. Posso inserire dei plugin che uso tantissimo all'interno o del ListenBus come ad esempio Sienna e nel Master magari inserire un sistema o un plugin di Limiting. Il mio plugin di Limiting, salvare tutto, portarlo ad un livello, salviamo il tutto ed utilizzare il Vice DS1 appunto con l'algoritmo di Dithering con il Truepeak integrato. In questo modo posso salvare ora il template andato su File, Save as Template, lo chiamerò URI Mastering o JGR Mastering in modo da poterlo richiamare molto velocemente poi dalle Song. Infatti se poi vado all'interno faccio New, sotto Mastering Release ho la possibilità di caricarmi ed eccolo qui JGR Mastering. L'altra grande novità fa riferimento invece all'esportazione degli album. Quindi torniamo sul nostro progetto e andiamo su Digital Release e in questa posizione troviamo l'esportazione di Album Mode. Chi utilizza il Loudness Compensation, chi utilizza il sistema di aggiustamento diciamo del Loudness proposto da Presonus potrà scegliere la funzione Album Mode. In questo modo il Loudness verrà misurato sull'album intero e quindi adeguate tutte le tracce in maniera più coerente che facendolo traccia per traccia. Troveremo poi presto un tutorial su come è stato realizzato l'album live di Vincenzo Incenso che appunto state vedendo in lavorazione. Per il momento è tutto ci vediamo presto ciao. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto ciao a presto.